Polizia ieri, grazie, bravo, bravo, capito? Io ho 9 anni in Italia, questo non va bene. E' stato ricevuto dall'acquistore di Arezzo che ha voluto ringraziarlo l'ambulante nigeriano che dopo aver scoperto una furto ha cercato di fermare il ladro ma è stato colpito a pugni in faccia. La vicenda è venuta alle porte della città di fronte ad Obi in via Le Amendola. Il quarantenne nigeriano infatti staziona sempre di fronte al negozio dove vende fazzolettini ed altri oggetti. Obi, 6 anni, venduto Obi, 6 anni, aiuta per me Obi, tu vieni qui a ruba Obi, io l'ho visto? No. Ed è proprio sulle porte d'ingresso che ha notato lo strano comportamento di un cliente che dopo essere entrato con una borsa palesemente vuota è uscito poco dopo dal varco riservato a chi esce senza acquisti con la stessa sacca ma in questo caso gonfia di oggetti rubati. E quindi è intervenuto e ha chiesto al soggetto se avesse rubato della merce. Per tutta risposta questo gli ha sferrato due pugni e poi è scappato a bordo della sua macchina. No, 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 ha rubato, aiuti, ha rubato. Subito vai via la macchina, prende la roba e ha detto via. Nella collutazione però ha perso la borsa con la refurtiva, diserbanti e prodotti per la piscina per un valore di circa 140 euro. Per i quali poi anche Lobby ha fatto denuncia di furto e poi anche un telefonino e altri effetti personali che ci hanno poi condotto ad identificare il responsabile. Sono stati così gli agenti della squadra mobile accorsi sul posto a rintracciare a Castiglion Fiorentino l'autore del furto, un 48enne italiano con numerosi precedenti penali. Si è configurato un furto che poi si è trasformato in una rapina impropria di fatto perché lui per guadagnarsi la fuga ha usato violenza nei confronti del cittadino nigeriano ed è stato tratto in arresto per questo motivo. L'arresto non è stato però convalidato per illegittimità, non ci sarebbe stata infatti la flagranza di reato. Inoltre il giudice non ha applicato nessuna misura cautelare, viste le due versioni completamente diverse fornite dal nigeriano e dal presunto ladro che ha negato ogni addebito. L'ambulante invece per i colpi ricevuti al volto durante la colluttazione è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale San Donato dove ha ricevuto le cure necessarie. I medici lo hanno giudicato guaribile in otto giorni per un trauma facciale e una ferita al labbro. Sicuramente è un esempio positivo di una persona che notando un atto di illegalità ha preferito intervenire piuttosto che magari fare l'indifferente, quindi sicuramente è un esempio da seguire.